Buongiorno qui al Festival dell'Economia di Trento, abbiamo affrontato il tema della transizione energetica e dei vettori energetici che saranno due, l'elettricità e l'idrogeno verde. L'idrogeno verde oggi viene ottenuto da combustibili fossili, ma in futuro dovrà essere... l'idrogeno non è verde perché è grigio, ma ottenuto da combustibili fossili, non dovremmo ottenerlo da energie rinnovabili. Una delle fonti principali possono essere le biomasse, che hanno questo vantaggio importante, quello di catturare l'anidride carbonica dall'aria e non restituirla completamente perché nei processi di produzione di idrogeno verde, sia dal biometano che proviene dal biogas, sia dalla steam gasification delle biomasse lignocellulosiche, abbiamo come sottoprodotti rispettivamente il compost per la fertilizzazione dei terreni, sia il biochar che va a finire sempre nel terreno. Quindi il vantaggio è duplice, quello di avere un bioidrogeno rinnovabile, a basso costo tra l'altro perché con 12 kg di cippato di legna si fa un chilo di idrogeno, a meno di 3 euro con impianti di certe dimensioni, ma soprattutto non rimettiamo tutta la CO2 che è stata assorbita dalle erbacee o dalle lignocellulosiche, dagli alberi, durante la loro crescita. Quindi una filiera importante in cui la Fondazione MAC tra l'altro è molto impegnata e vuole sviluppare tutte queste tecnologie insieme al mondo della ricerca delle università.